Quando tutto sembra finito, quando di fronte a tante realtà negative la fede si fa faticosa e viene la tentazione di dire che niente più ha senso, ecco invece la bella notizia. Dio sta venendo a realizzare qualcosa di nuovo, a instaurare un regno di pace. Il male non trionferà per sempre, c'è una fine al dolore. La disperazione è vinta perché Dio è tra noi. Il male non trionferà per sempre, c'è una fine al dolore.